Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del notiziario è dedicata al ride vandalico che si è registrato al Palacossiga di Gela. L'impianto sportivo è stato preso di mira da ignoti. Danneggiate le porte d'ingresso, rotti i catenacci e portati via gli estintori, reso inagibile il parquet. Questa mattina la struttura sportiva avrebbe dovuto ospitare la festa di carnevale di migliaia di bambini che è saltata. Vediamo. Incursione vandalica al Palacossiga di Gela e non è la prima volta danneggiata le porte d'ingresso, rotti i catenacci e portati via gli estintori. Mani ignote hanno rovistato anche negli armadi, che ha agito e inoltre ha reso inagibile il parquet. Un vero e proprio ride. E questa mattina la struttura sportiva avrebbe dovuto ospitare la festa di carnevale alla presenza di migliaia di bambini. Saltata. La struttura è oggetto di interesse da parte di qualcuno e viene sempre continuamente attaccata. Io sporgerò denunce tramite gli uffici competenti per cercare di capire quali siano i motivi di questo attacco. Lei crede che si tratti di un atto di sabotaggio, considerato che oggi proprio al Palacossiga doveva svolgersi una festa di carnevale in grande stile con la partecipazione di migliaia di studenti? Io non lo escludo come ipotesi. E anche potrebbe essere un motivo per rendere questa struttura inagibile, per far vedere che questa struttura non può essere gestita dal pubblico in una maniera molto forte. Chi agisce sa addirittura tutto del Palacossiga. Considerato che hanno agito di sabato, sapevano pure che in quell'occasione al Palacossiga non c'era nessuno. Sì, infatti anche questa qui è una cosa che fa pensare. Cercheremo di rivolgerci agli agenti di polizia, agli organi di polizia, per vedere un po' di indagare un po' di più su questa faccenda. L'amministrazione comunale di Gela si opererà per dare in gestione la struttura sportiva a qualche società locale. Sarebbe una soluzione interessante, tra l'altro è la soluzione che avevo consigliato sin dall'inizio del mio insediamento, ma per fare gli affidamenti, per fare le gare, per fare tutte le procedure amministrative, passano dei tempi che non possiamo permetterci, visto come poi alla fine vanno a finire l'incertezza amministrativa. E tutti i bambini che oggi avrebbero dovuto qui partecipare alla festa di carnevale, oggi che faranno? Oggi sono ognuno nei propri plessi scolastici, nelle proprie palestre, gestite dai propri istituti, dai dirigenti scolastici, e continueranno i festeggiamenti così, insomma, in maniera separata, e poi domani faremo invece il corteo di carnevale. E per quei bambini che oggi, come dicevo, avrebbero dovuto partecipare a questa manifestazione, quanto è accaduto? È un colpo al cuore? Certo che è un colpo al cuore, ma è un colpo al cuore di tutta la città, che aspettava questo momento, insomma, se è una struttura pubblica, non serve per fare delle cose pubbliche, insomma, siamo veramente messi male. Siamo alla politica, dopo tante polemiche il Partito Democratico ha il suo nuovo segretario. Si tratta di Giuseppe Di Cristina, 36 anni, eletto per acclamazione, presidente e stata eletta Claudia Caizza. L'elezione è avvenuta ieri mattina alla presenza del segretario provinciale del Partito, Peppe Gallè, e del deputato regionale Giuseppe Arancio. Di Cristina, genero dell'ex deputato regionale Lillo Speziale, si era già candidato alle scorse amministrative. Il congresso è stato disertato dall'area renziana, che fa capo all'ex sindaco di Gela, Angelo Fasulo. Chiedevano che il congresso venisse celebrato dopo la soluzione della vertenza Gela e hanno già annunciato ricorso per un congresso che hanno definito illegittimo, etichettandolo come il congresso di carnevale. Sentiamo il neosegretario cittadino. Sono soddisfatto soprattutto della straordinaria partecipazione di ieri al congresso e per il dibattito che si è messo in gambo. Ieri abbiamo visto più dell'80% del partito discutere sui problemi della città e metterci la faccia. Oggi Gela sta vivendo uno dei momenti più complessi della storia recente della città ed è giusto che il primo partito mette in gambo tutto il meglio delle forze possibili per dare delle risposte adeguate ai problemi che oggi ci sono e sono tanti. Lala Renziana però ieri non ha partecipato. Cos'è? Una guerra in famiglia all'interno del PD? Io parto sempre da chi c'era. Io dell'ala Renziana ho visto dirigenti storici e renziani della prima ora. Tra tutti il capogruppo Enzo Cirignotto, l'ex capogruppo Giacomo Gulizzi e tanti altri. Ieri c'era il partito. Mi pare che qualcuno forse orfano del potere è un po' nervoso ma diciamo a noi non interessa. Noi dobbiamo dare risposte a una città che in questo momento ha tantissimi problemi e abbiamo il dovere di metterci la faccia. Però qualcuno dell'ala Renziana ha definito il congresso di ieri un congresso di carnevale. C'è qualcuno che pensa di poter screditare il PD attraverso sterili polemiche. A me non interessano le polemiche. A me interessano i problemi di Gela. Il partito democratico in questo momento deve risolvere i problemi di una vertenza storica. Noi abbiamo centinaia di lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Stiamo vivendo una crisi difficilissima e in questo momento alla città noi vediamo le nostre polemiche. A livello esterno noi abbiamo il dovere di dare risposte e di mettere in gambo un gruppo di vigente innovativo che abbia l'orgoglio da partito democratico di dare risposte a questa città perché questa città lo merita. Noi non siamo il primo partito della città perché abbiamo vinto un sorteggio ma perché i gelesi ci hanno votato. Rispetto a questo noi dobbiamo esserci. Si parla addirittura di inciugi. Io sono orgoglioso del fatto che dirigenti storici sia del primo circolo sia del circolo Gela Centro e di un pezzo del circolo che farebbe riferimento a questo pezzo di Renziani ieri mi hanno sostenuto. Sono dirigenti che hanno messo passione e impegno da sempre nel partito e quindi il fatto di essere stato sostenuto da dirigenti storici che hanno fatto anche scelte diverse ma che in questo momento si sono ritrovati assieme su un percorso che è il percorso di dare al partito democratico un gruppo dirigente che abbia l'autorevolezza, la forza e il coraggio di rappresentare le istanze legittime che Gela oggi pone. Come si risolve la vertenza Gela? Si risolve senza prendere in giro nessuno. La vertenza Gela si risolve con impegno. La vertenza Gela si risolve nell'unità di tutte le categorie produttive. Vede, noi non siamo un sindacato, noi siamo un partito. E il partito ha il dovere di dare rappresentanza e risposte. E' quello che tendiamo di fare. Lo facciamo senza populismo, lo facciamo all'interno del partito, lo facciamo orgogliosi dei nostri gruppi dirigenti regionali e nazionali e all'interno del partito siamo pronti anche a litigare per dare rappresentanza ai Gelesi. Perché la vertenza Gela non è una questione di Gela. La vertenza Gela è una questione che riguarda la Regione e l'Italia. È un problema industriale straordinario. Io il protocollo non l'ho firmato. Probabilmente si potrà mettere in gambo un protocollo migliore, ma oggi quel protocollo va fatto rispettare. L'ENI deve prendersi le sue responsabilità e in questo momento i lavoratori hanno, che stanno dando una prova di civiltà enorme, anche meglio rispetto a certi pezzi della politica, con grande civiltà stanno mettendo in gambo una protesta giusta che va sostenuta. E la politica lo deve fare senza populismo e con serietà. Cambiamo argomento. Sit-in di protesta dinanzi all'ufficio delle entrate di Gela. C'erano i lavoratori dell'indotto dello stabilimento e le organizzazioni sindacali. Vediamo. La vertenza Gela si sposta dinanzi all'ufficio delle entrate. Questa mattina sit-in da parte delle organizzazioni sindacali e di alcuni lavoratori. Un presidio che ha un obiettivo ben preciso. Abbiamo fatto una serie di proposte, tra cui anche al Consiglio Comunale, per quanto riguarda le tasse, perché io vorrei capire come un lavoratore che da quattro mesi non percepisce nessun reddito, tra le altre cose c'è un futuro nebuloso perché c'è l'incertezza occupazionale e non si sa quando andranno probabilmente nella migliore delle posse a lavorare questi lavoratori, come potrebbero andare a pagare le tasse. Perciò sulla vertenza Gela deve essere anche messo un punto chiaro che sia anche quello della sospensione, di una dilazione, fino a quando c'è un pochettino di un momento di distasi per dare una serenità quantomeno occupazionale per i lavoratori. Perché allo stato attuale si parla di Imo, si parla di tante tasse, si parla di Muti, ma questi padri di famiglia come debbono fare? I lavoratori che rivendicano il diritto sacrosante al lavoro, perché col lavoro si dà dignità a ogni cittadino, e di conseguenza può pagare tranquillamente le tasse. Se questo non avviene, come può fare un lavoratore a pagare le tasse se non ha un reddito? Nella nostra richiesta al Ministero era questo, prima il lavoro, poi il resto. Quindi se non c'è questo, siamo alla disperazione. Noi oggi siamo davanti all'Agenzia delle Entrate, purtroppo, perché l'Agenzia rappresenta lo stato in cui si pagano tutte le tasse. Oggi chiediamo un'attenzione riguardo ai lavoratori dell'indotto e tutto il comprensorio di Gela, in questo momento perché siamo in serie difficoltà, e stiamo cercando di ammortizzare un problema che è diventato serio e problematico. E chiediamo l'intervento dello Stato serio, non scherzando. La situazione occupazionale a Gela si è fatta difficilissima, Vado avanti così, alla giornata, sono depressato. Come infatti quest'anno sono stato sfrattato e quindi c'è un anno che senza avere soldi, e ora non so proprio cosa devo fare. Però le tasse da pagare arrivano sempre? Sì. E come fai? Non posso pagare, non li pago, non pago niente, perché non ho lavoro, purtroppo non c'è niente. Protestano anche le lavoratrici addette al servizio mensa. Le donne, una settantina in tutto, hanno inscenato questa mattina un sit-in davanti al Palazzo di Città per rivendicare il diritto al lavoro. Senza stipendi da circa sette mesi, perché il servizio è fermo, si sono recate municipio per chiedere al sindaco di sbloccare al più presto la refezione scolastica. Sentiamo. Il FIAL e la Valdice sia il sindacato, non ci fidiamo più. È una telenovela che continua, non abbiamo certezza che questo servizio possa veramente essere avviato, e per questo adesso abbiamo deciso che fino a quando non si avvierà il servizio, ogni mattina saremo qui a presidiare il Comune. Non solo, ma viene forte da parte delle lavoratrici una domanda. Atteso che ci sono responsabilità, di sicuro gravi responsabilità, per la mancata avvio del servizio, le lavoratrici lamentano da sette mesi, otto mesi, che non prendono nessun salario, parliamo di salario di 250 euro al mese, sono indebitate per poter mantenere le proprie famiglie. A questo punto giustamente e legittimamente dicono chi ci paga? Chi ci paga questa perdita? E chiedono al Comune un intervento anche economico di provvidenza, perché parliamo di lavoratrici, non hanno reddito, senza reddito, gente divorziata, perché sono tutte lavoratrici che i servizi sociali, anziché dargli quel sussidio che normalmente si dà ai poveri, allora hanno sempre invinguato e gli hanno offerto la possibilità di lavorare nel servizio di riflessione scolace. E noi praticamente ci ritroviamo a casa senza lavoro e senza retribuzione, quindi siamo in breta praticamente alla disperazione, perché per quel poco che ci veniva dato in compenza del nostro lavoro, le poche ore, perché alla fine la maggior parte delle lavoratrici lavorano due ore al giorno, quindi al massimo ci veniva retribuito massimo 200 euro al mese, cioè ad oggi non abbiamo nemmeno questo, c'è la vergogna più totale, non sappiamo a chi dobbiamo ringraziare per questo, siamo qua come forma di protesta perché non sappiamo più a chi rivolgerci, tutti ci voltano le spalle, quindi siamo qua per manifestare proprio il nostro sconforto e non sappiamo come più reagire. Se non fossero mia mamma e mio papà senza lavoro, non lavoro da nessuna parte, la luce, l'acqua arrivano, bollette. Siamo tutti fermi e da maggio che abbiamo finito non abbiamo più iniziato a lavorare, non si sa il motivo, non si sa il perché, siamo tutti qua. Dal mese di novembre che tutti i santi giorni ripetiamo questa storia, la riflessione scolastica inizia domani, dopo domani, Siamo arrivati a metà febbraio, ancora oggi non abbiamo delle risposte, oggi non ce ne andiamo da qui, se il sindaco non ci dà delle risposte è certo, vogliamo una giornata, stabiliamo una giornata perché noi abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo a casa famiglie, figli da mantenere. Intanto è stata convocata per domani, martedì 9 febbraio, al Comune di Gela la ditta che si è aggiudicata in via provvisoria il servizio di refezione scolastica. Il titolare dell'impresa concerterà con gli uffici l'attivazione del servizio in tempi brevi. Il settore comunale all'istruzione ha acquisito certificati previsti in modo da verificarne la coerenza con quelli dichiarati in sede di gara. Contestualmente la ditta sarà messa in contatto con le lavoratrici impegnate nel servizio di refezione scolastica. Operazione di sicurezza negli acquisti, si tratta del blitz eseguito dalla Polizia Municipale di Gela contro l'abusivismo commerciale per la tutela del consumatore. sequestrati 500 giocattoli pericolosi perché privi del marchio CE le sanzioni amministrative elevate ammontano 170 mila euro mentre per due grandi negozi orientali, rispettivamente di 850 e 450 metri quadri a risultati totalmente abusivi è stata un'oltrata richiesta di chiusura allo sportello unico delle attività produttive del Comune. I dati dell'operazione sono stati illustrati dal comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Montana questa mattina nel corso di un incontro con i cronisti. Presenti anche la sindaco Domenico Messinese e l'assessore comunale al controllo del territorio Eugenio Catania. Al momento del mio reinsediamento l'amministrazione, la persona del sindaco e dell'assessore mi diceva che una delle priorità è quella di riportare un po' di ordine e di sicurezza nell'espletamento del commercio e quindi noi ci siamo impegnati come comando i vigili urbani in maniera seria su questo fronte. Abbiamo diviso la nostra azione su tre step. Abbiamo fatto una prima operazione che riguardava le strade sicure e sostanzialmente riguardava la liberazione, così possiamo definirla, delle arterie principali e della presenza degli ambulanti. Cosa che effettivamente siamo riusciti ad ottenere lungo i corsi principali della città e via Venezia. Il secondo step è stato quello di liberare sempre nelle arterie principali l'occupazione abusiva dei marciapiedi da parte dei venditori di frutta e verdura anche a posto fisso, cosa che ci siamo prefissati e abbiamo raggiunto. Il terzo step è stato quello di garantire il consumatore nell'acquisto quotidiano di prodotti. Tutto questo è finalizzato ad una situazione ben precisa, quello di garantire la sicurezza nell'esercizio del commercio ma soprattutto la sicurezza dei consumatori. Continua all'operazione sicurezza della città di Gela con tutte le sue saccettature, sicurezza per quanto riguarda i venditori ambulanti per le strade, dove c'è un controllo per poter consentire la possibilità di vendere in modo regolare che è autorizzato e quindi sapere anche la provenienza dei prodotti, come anche la sicurezza dei prodotti venduti nei negozi stesso perché abbiamo sequestrato come oggi una grande quantità di materiale che non è conforme e quindi potenzialmente pericoloso per i più piccoli che poi ci vanno a giocare, soprattutto non infatti i giocattoli, e sicurezza per quanto riguarda le strade. Diciamo che la Polizia Municipale si sta adoperando per poter dare quella sicurezza che i cittadini chiedono. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, la Giunta Municipale e il Consiglio Comunale esprimono cordoglio al presidente del civico consesso di Butera Rocco Buttiglieri per la prematura scomparsa del figlio Emanuele. Ci stringiamo attorno al dolore di Buttiglieri e della sua famiglia, hanno dichiarato gli amministratori del Comune di Gela. In questo tragico momento di dolore, il presidente e il Consiglio Direttivo della Fidas Adas di Gela esprimono il più profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Emanuele Buttiglieri. Non maschere di carnevale, ma mascherine da lavoro. Questa mattina un gruppo di docenti e alunni del liceo classico Eschilo di Gela dopo l'assemblea mensile degli studenti, invece di tornare a casa a preparare o mangiare frittelle, hanno dedicato la mattinata e il pomeriggio alla sistemazione dell'immenso patrimonio librario della scuola. Liceo classico, nell'ultimo semestre, la biblioteca è stata chiusa per lavori di ristrutturazione. L'inaugurazione avrà luogo a breve, annuncia il dirigente scolastico Gioacchino Pellitteri e presenteremo alla città una biblioteca con un nuovo look che ne consentirà un uso diverso, più moderno e di porla come luogo ideale per attività culturali della città. Sarà la biblioteca dei liceali, ma anche un faro per tutta la città. Una serata all'insegna del divertimento, sabato in Piazza Umberto, lato Chiesa Madre, sfilata di moda organizzata da Conci Event nell'ambito delle iniziative promosse dall'amministrazione comunale per il Carnevale 2016. Ragazzi e ragazze hanno sfilato indossando maschere d'abiti da sera o casual, un evento perfettamente riuscito. La manifestazione è stata presentata da Licio Gatto, pubblico in freddolito per le basse temperature. Sul palco anche la giovane gelese Cristina Tabbì, che ha avuto la possibilità di lavorare in Puglia con un fotografo. Conci Event sforna talenti in un periodo assai critico per l'occupazione in città. Nel corso dell'iniziativa l'istituto alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio di Bartolo, ha preparato e distribuito numerose frittelle. I negozi del centro storico sono rimasti aperti fino a mezzanotte. Domani, martedì 9 febbraio, dalle 10 alle 13, sfilata e maschera con gli alunni delle scuole primarie e secondarie, banda musicale e maggiolette. Dalle 10 alle 14, in Piazza Umberto I, gastronomia e distribuzione di frittelle a cura dell'istituto alberghiero. Alle 13 a 30, in Piazza Umberto I, premiazione della scuola per la maschera più bella a cura di Gela Centro e Conci Event. Dalle 18 alle 21, sfilata ed animazione della banda musicale ed in Piazza Umberto I, gastronomia e distribuzione di frittelle a cura sempre dell'istituto alberghiero. Un sogno che sta per realizzarsi. La giovane cantante gelese Anna Salsetta, mercoledì sera, sarà presente a Sanremo per partecipare alla competizione Sanremo Music Awards per poi trasferirsi a Monte Carlo. Dopo tanta gavetta, ha detto Anna Salsetta, adesso è arrivato il mio momento, l'augurio è quello di portare a casa un bellissimo risultato. Durante la manifestazione Sanremo Music Awards sarà presente anche la gelese Florinda Vicari, che sarà impegnata ad intervistare i protagonisti e a curare il backstage. La sottosezione dell'unità al CD Gela celebra la giornata mondiale del malato, giovedì 11 febbraio, giornata mondiale del malato in chiesa madre, con la presenza del personale volontario e delle varie associazioni di volontariato. E domenica 14 febbraio, celebrazione eucaristica, presso la casa di cura Santa Barbara. Torniamo alla cronaca. Un agricoltore cinquantenne di gele è stato trovato senza vita e incontra da Mignechi. L'uomo si sarebbe impiccato. I carabinieri della radiomobile lo hanno trovato all'interno di una serra. L'agricoltore era titolare di una piccola azienda, della quale fa parte anche la serra, è diventata teatro della sua fine. Allo stato attuale si vagliano diverse ipotesi. Non ha comunque lasciato messaggi indirizzati alla famiglia. L'uomo era sposato. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale, vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10. Nostro ospite sarà Don Giuseppe Caffà, parroco della Chiesa Sacro Cuore di Gesù di Niscemi. Le repliche sono previste alla mezzanotte. Domenica prossima alle 18. Ci fermiamo, c'è la pubblicità a tra poco. Restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. si terrà venerdì 12 febbraio prossimo alle 17.30 nei locali della libreria Mondadori di Via Marconi, 25 a Gela. La presentazione del libro di Antonio Maria Calafiore, La luce del tramonto. Converserà con l'autore, il giornalista Anza Franco Infurna. Sarà presente l'editore, Simona Maimone. Adesso apriamo la pagina dello sport. Pocherissimo del Gela. La formazione bianca-azzurra ieri ha stravinto contro il Paceco, riconquistando la vetta della classifica del girone A del campionato di eccellenza. Un risultato che non ammette repliche. Adesso in testa della gradutoria, quota 42, ci sono tre squadre. Gela, San Cataldese, Dattilo Noir. Vediamo. Tutto troppo facile per il Gela nella sfida davanti al proprio pubblico contro il Paceco. 5-0 il risultato finale. Una vittoria importante e netta per la formazione di casa, che torna nuovamente capolista, anche se in condominio con Dattilo Noir e San Cataldese. Una domenica perfetta per la squadra di Totò Bruculeri, che dopo l'amaro pareggio della settimana scorsa in casa del Camerat, è tornata la vittoria in maniera prepotente. In mezzo al campo, nei biancazzurri, è tornato Bonaffini e la luce si è accesa nuovamente. Bravi anche gli under, spesso criticati in trasferta, ma che ieri hanno dimostrato di avere i cosiddetti numeri per far bene. Tutti in gol, infatti, i giovanotti schierati dal tecnico di Mazzara. Russo ha aperto le marcature al 17esimo, Iannizzotto le è chiuse nel primo tempo al 45esimo e Scerra nella seconda frazione di gioco al 20esimo. In mezzo le reti del Bomber Nassi al 26esimo del primo tempo e dal difensore Goliador Campanaro al decimo della ripresa. Il Paceco non pervenuto. Hanno pesato le essenze di giocatori importanti, come il difensore Agate, scolificato, e l'esterno D'Amico. Con D'Aguanno non al meglio e lasciato infatti in panchina, il tecnico Mazzara è stato costretto per forza di cose a cambiare qualcosa nella sua squadra. Per il capocannoniere del girone, Davide Testa, praticamente nemmeno un tiro in porta. L'unica vera palla-gol pericolosa giunta dalle parti di Pandolfo è stata la conclusione di Marino, terminata abbondantemente fuori al 37esimo del primo tempo. Il Gela così continua la sua corsa alla Dottor Jekyll e Mr. Hyde, staripante in casa, timido fuori dalle mura amiche. Un ruolino di marcia da migliorare che oramai si trascina da inizio stagione. Da cosa dipenda è tutto da capire. Di certo c'è che alcuni uomini in questa squadra non possono di certo mancare. Il capitano Alessandro Boneffini è un leader e quando non c'è lui in mezzo al campo il Gela fatica. Giovani come Iannizzotto dovrebbero trovare più spazio. La difesa è una garanzia. Pettinato e Russello sono diche insormontabili. Campanaro pure e segna. Russo è giovane e propositivo e l'assenza di esposito alla fine non si è fatta sentire. Brucculeri, lo aveva detto in settimana, alla fine si è affidato a chi era veramente in forma. E ieri mancava il talentuoso Alma. Per lui con ogni probabilità altre due settimane di stop. Insomma, un Gela che più che negli uomini deve migliorare nella testa, nella giusta cattiveria, anche fuori casa. E a fine partita Flavio Centamore ha intervistato i protagonisti della gara. Li sentiamo. Una vittoria netta del Gela che ritorna in vetta alla classifica. Noi oggi stavamo bene. Avevamo voglia di dimostrare di non essere quelli domenica scorsa. Abbiamo dato un'impronta subito alla gara forte, determinante. Credo che oggi qualunque squadra fosse venuta qui a Gela avrebbe perso per l'atteggiamento che ha avuto la squadra dal primo al 95esimo. Al Gela spesso si rimprovera che gli under forse non sono all'altezza di questa squadra. Oggi tutti gli under hanno segnato. No, oggi gli under hanno fatto una grande partita. Io per primo gli faccio i complimenti. Ci hanno dato una mano d'aiuto. Sono stati propositivi. Sono stati positivi in ogni azione per tutta la gara. Diciamo che finalmente si è vista una squadra a tutti gli effetti. A Gela il Presti risponde sempre bene. Il Gela risponde altrettanto bene. in trasferta. Oggi io sinceramente mi aspettavo un po' più di persone almeno in tribuna perché la curva ci segue sempre. Noi stiamo facendo un grande campionato. Non siamo una squadra che è uscita adesso. Siamo in vetta. Siamo in vetta. Mi dispiace vedere la tribuna non piena. Ripeto, la curva ci segue sempre. È da fare un grande applauso perché viene anche fuori casa e vengono in tanti. Ripeto, c'è da fare. Adesso mancano ancora nove partite se non sbaglio. Noi dobbiamo avere l'atteggiamento che abbiamo avuto oggi cercare di arrivare alla fine giocando nove partite alla morte. Poi l'ultima gara vedremo cosa saremo stati capaci di fare. Si aspettava un paceco così deludente? Beh, deludente. Un paceco quarto in classifico, terzo in classifico che ha fatto un grande campionato. Penso che oggi c'era solo il gelacalcio in campo. Gelacalcio in campo, gelacalcio con giocatori di prospettiva come Gianni Zotto che in campo ha fatto veramente la differenza oggi. La settimana scorsa erano tutti brocchi, scarsi, senza nessuna parvenza tattica. Oggi non riesco a capire come è. Tutti gli anderi infatti oggi hanno segnato. Mi fa piacere. Sono bravi. La prossima partita invece contro il Parma vale in trasferta. Rischiamo di essere di nuovo brocchi. Nel campionato di promozione pareggio per 0-0 dell'Atletico Gela sul campo dell'Atletico Caltanissetta un pari che ha avuto un'immediata conseguenza in classifiche. Giallorossi infatti sono stati raggiunti al terzo posto dalla Ragusa che ha vinto contro il New Team. Per la squadra di Peppe Misitti si è allontanato anche il secondo posto in virtù della vittoria ottenuta da Licata a Santa Croce. Il distacco adesso è di sei lunghezze. Perde invece il Macchitella Gela. Si tratta del terzo KO consecutivo. I ragazzi di Mirko Fausciana sono stati battuti infatti in casa dal Canicattì. Risultato finale per 3-2 per gli aggrigentini. Sentiamo il tecnico Biancorosso. Macchitella che ha provato a fare lo sgambetto al Canicattì. Non ci è riuscita nonostante una bella gara. Sì, abbiamo giocato molto bene sulla prima frazione. Alcuni errori difensivi comunque ci hanno un po' penalizzati. lascia la mare in bocca perché comunque oggi dopo aver passato in vantaggio per il 2-1 pensavamo di fare la nostra partita e invece il Canicattì si è rilevata proprio la squadra che noi pensavamo una squadra cinica che non ti permette il minimo errore e ti castiga. Abbiamo avuto un campionato altalenante nel senso che abbiamo fatto tre vittorie tre sconvitte tre vittorie e tre sconvitte viaggiamo con questo rullino di marcia e speriamo di non perdere più punte anche se comunque sapevamo che avevamo un tour de force con Nissa, Licata, Canicattì, Ragusa Atletico Gela e diciamo che sono i primi della classe lo si vede e comunque si deve dare merito ai miei ragazzi che oggi hanno giocato alla grande contro il Canicattì mettendoli sotto per parecchi minuti però alla fine vediamo di vedere il bicchiere mezzo pieno la prestazione mi rende ottimista e quindi sono orgoglioso di loro per tutto quello che stanno facendo. Siamo all'informazione cinematografica sono due film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela alle 17.30 e alle 19.30 Carol mentre alle 21.30 Il Ponte delle Spie Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi la nostra informazione a tutti voi un buon inizio settimana arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti